Benvenuti a tutti ragazzi sono Andrea e benvenuti sui miei video, sono ben tornati su Roblox, finalmente credo che tanti siano mancati questi video su Roblox e oggi siamo anche su una modalità particolare, molti di voi lo conosceranno già perché ho il volumo così alto, non lo so Sto uscendo, allora praticamente Roblox credo che si è mancato e questa cosa non era proprio prevista, che si sono davanti a uno scorpione di livello 106 Cioè comunque, cioè io sono livello 88 quindi oggi saliremo un po' e sì dove andiamo a conquistare subito la caverna, o almeno che non sia di uno scorpione, no Ciao Dai ciao Me la prendo io, oddio Ok, tu Dai vieni, vieni, scappa Oh che male Quindi scappa, ok Poi abbiamo scappato, abbiamo fatto scappare quel rango che era di bello, mi sembra 83, se non sbaglio, cioè 83, 84 Eh perché ragazzi ne hanno aggiunto uno quindi mi confondo, cioè la batterly, è veramente, veramente fatta molto molto bene Non si sa che ora te ne vai, te ora te ne vai, te proprio non hai capito, ora te te ne vai, sai che sei più grande, però, cioè Che male Scappa Ah, ok Raga comunque, questa novità ci avevo già giocato ma non facevo ancora video, cioè facevo già il video ma mi ero fermato e comunque raga una novità di sabato non faccio video, cioè raga notate che devo fare tre video al giorno che sono veramente, veramente molti Quindi porterò anche molti video su Roblox e questa modalità che su me è abbastanza bella Ma dai, ma dai, ma dai, perché ogni volta perché Ok raga, ok, sì E non so perché raga così tanto No, non mi direi che non si è baggata il visuale Ok, non mi si è baggata C'è pure un amico che si chiama sia Stefano che sia Anto Anto esattamente lui Che è qui a prendere la bandiera E Stefano non so dove sia, però lasciamo stare Ora, qui, andiamo in un'altra parte, andiamo a prendere un'altra caverna E Stefano comunque è 136 Che è notevole come livello Quindi è pure un amico molto molto forte Allora, perché per questo aggiornamento hanno tolto un livello A tutti i... la gente Che io ero già questo ragno Quindi se io, tipo, non mi avessero tolto un livello Sarei già il prossimo Che... forse ho capito qual è il prossimo È il mio preferito Sì Ma te è vero la nera Che vuoi fare? Sembra più forte ma adesso è più nabba Ok, ciao Io ora vado a prendere la bandiera Ok Andiamo qui Dentro Ok Giechiamo l'angolo Troviamo sto ragno Che a me è peggio del mio Mi ha messo quasi Al per due Che è il nabbo Aspetta Ok, vabbè Dai Vado a vedere ai miei amici Di venire in questa caverna Oddio Questo qui è l'ultimo livello Ragazzi C'è Wow C'è wow Sto muovello Sì Oddio Che bello Eh, vabbè C'è Eccola Ci furono qui Crederebbe un botto di vita Non aspettavo che una farfalla fosse più forte di uno scorpione Questo scorpione non c'è stato A me non mi vede Quanto sembrava uno scorpione Ok Non posso pure di qui Il caverna Rebirth Sarà anche Uno di qui Quindi Continuiamo Andare di qui Ci vediamo Quando Catturerò Una caverna Che Ci metterò Due anni Perché Perché Sì Ho dei problemi Dai Non avete capito Ok Siamo a 5.000 di 19.000 E Sta arrivando un piccolo E Inutilissimo Insetto Che ora Non c'è più Come avete appena visto E Raga E al prossimo Vi vedete Questo è tutto E Ciao Ciao Ciao